Oggi sul Bolaio siamo insieme a Bogidar Stanisic per parlare del suo nuovo romanzo La giraffa in sala d'attesa. Ben trovato. Grazie. Allora, chi è la giraffa che attende in sala d'attesa, dentro e fuori metafora? Ma se entriamo troppo nelle metafore credo i lettori non potranno avere più dei compiti, ecco dico. Ma la giraffa in realtà è il sopranome della protagonista di questo romanzo, di una ragazza giovane, scienziata, non contenta tanto di sé e in un momento della sua vita vuole raccontare la vita della sua famiglia, l'arrivo stranissimo da profughi dalla Bosnia in Friuli, in un campo profughi e poi ecco via via stabilirsi a Udine poi lei è andata a Bologna, da Bologna causa ecco drammi un po' sentimentali e finita a San Diego in California. Questo libro lei l'ha scritto in serbo ma è pieno e ce lo fa notare l'editore che lo segnala nel testo di parole in italiano. Questa commissione di linguaggi fa parte un po' dell'immagino della commissione dei linguaggi della sua vita visto che è venuto a stare in Italia, ma in che modo è rappresentativa dell'unione di due punti di vista diversi se lo è? Ma in realtà questo romanzo è pieno di vari cioè diversi punti di vista che credo sia anche giusto, sia giusto così, anche si intensifica se non il trama che in realtà quasi non esiste, almeno le situazioni significative. Io in realtà dovevo scrivere questo romanzo, dico finalmente, finalmente in questo modo raggruppando in me stesso la mia ampia esperienza di essere profugo, esule, poi uno dei nuovi italiani italiani e tantissime esperienze di varie persone che in realtà ne sento vicine con il loro destino e loro strade di vita. Questi linguaggi in realtà davvero si mescolano perché la ragazza Valentina e suo fratello si rifiutano di parlare nella lingua madre, ecco perché non vogliono sporgere dalla nuova società, non vogliono sentirsi altri e diversi che è una situazione che tanti genitori, dico di tutto il mondo che sono presenti in Italia per varie ragioni, forse la sentiranno addirittura meglio di me. Ad un certo punto la protagonista si domanda forse la mia testa balcanica a ingannarmi e mi sono domandata come una testa balcanica? Ma la testa balcanica è abbastanza specifica, parlo proprio sulle diversità di ragionamento perché io in fondo penso che noi popoli balcanici siamo molto lontani dalla razionalità occidentale questa razionalità occidentale si manifesta in varie situazioni ma soprattutto quando si arriva altrove altrove, anche se per dire il vero la mia generazione e generazioni precedenti siamo del tutto educati in base dell'eredità europea. E a questo proposito le domando se si potesse conoscere i Balcani solo attraverso la loro letteratura e al contempo immagino che lei vivendo qui da parecchi anni abbia letto anche la letteratura italiana ecco da le due letterature che differenze o che somiglianze emergerebbero tra i due popoli? Sì, ma soprattutto la differenza ecco direi fra cosiddette balcaniche ma io parlo soprattutto di quella degli slavi meridionali a me conosciuta di più quindi da parte ovest dei Balcani direi che l'incontro l'incontro della letteratura italiana con quella slovena, serba, croata, bosniaca eccetera è accaduto ecco direi all'inizio del ventesimo secolo. Prima noi sempre ritardavamo, se io dico ad esempio che io proveniente dalla Bosnia noi non abbiamo conosciuto né umanesimo né rinascimento né barocco quindi è un... per non parlare dell'illuminismo ecco eccetera quindi si sente qualcosa ecco dico di mancato anche nel nostro essere. Ad un certo punto la protagonista dice disse mia madre la Bosnia è un paese in cui qualcuno si può anche innamorare di qualcun altro in quanto essere umano. Beh penso che questa sia una caratteristica principalmente del mondo o cosa intendeva dire? Ma io penso che non sia per me facile descrivere ciò che già avevo scritto ma in realtà la Bosnia è un paese molto specifico forse l'unica vera Gerusalemme in Europa e poi direi una Gerusalemme mancata perché io sarei molto più contento se voi foste venuti a Sarajevo a intervistarmi come un autore tradotto in lingua italiana che io venissi a Padova a... ecco dico partecipare a questa vostra iniziativa ecco penso che il fulcro, il fulcro in realtà ecco sia lì specificità che deve essere scoperta dai lettori. E quindi se dovesse suggerire un'esperienza letteraria o anche fisica un viaggio per conoscere questi posti che cosa suggerirebbe? Ma io suggerirei, ecco dico senz'altro partendo da Ljubljana per capire l'incontro della cultura slava e quella mitteleuropea poi anche Zagavria, ecco poi anche dico Spalato e Dubrovnik come tocco con la cultura della Serenissima e poi tutta questa parte Bosnia, Serbia, Macedonia anche Montenegro con proprio chiarissime tracce della cultura orientale turco-arabo-persiana che si è ecco dico in qualche modo incorporata anche con dei linguaggi ecco ci sono tantissime parole di cui ecco in Bosnia nessuno vuole rinunciare anche parole molto belle Grazie mille e complimenti per il suo lavoro Grazie per la vostra iniziativa